Signori e signori, benvenuti al mio canale, sono Everman e siamo qui in questo capolavoro, signori, diciamo, è una beta, è una prova, diciamo, è un demo, possiamo anche dirlo, e si chiama Resident Evil 7, signori, il gioco che dovrebbe spaccare nel 2017. 7, in realtà te guardiamo ora, signori, guardiamo un po', allora, c'è una videocamera davanti a noi, e c'è un tizio per zero, perfetto, signori, subito la videocamera buttata giù, incredibilmente, non va, oddio, oddio, guardiamo ancora in fase, io per cui non potrebbero notare correttamente, ok, perfetto, signori, ho avuto un po' problemi con il gatto, quindi prima ho registrato a vuoto, veramente, è roba bruttissima, c'è, ho registrato, ma è arrivato molto, 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 il gioco italiano sotto i titoli, ci stanno, vai. Signori, questo, quindi, è una prova, di Resident Evil 7, il taser, e la prima volta l'ho visto quando è uscito questa versione molto gratuita, su YouTube, ovviamente, ma, ormai già passato due mesi, non so quando è stato il primo giugno, secondo me, di questo capolavoro, signori. E niente, noi ci vediamo qua, signori, c'è una via d'uscita, perfetto, vediamo, sapate, una via d'uscita, signori, e vediamo un po', ci sarà una videocassetta, ci sarà una videocassetta, ragazzi, e... Dissaccelerò contro la pietra, ruota, ma che figata, qua c'è abbiamo il caffè, e possiamo vedere, due tazze di caffè, signori, e... ok, adesso sta andando perfettamente, legato, è la ora, perché... Prima ho dovuto interrompere a mezza sala, quindi, vediamo... Ovviamente questo video non sarà lunghissimo, perché... Allora, vediamo qua... Ma confusibile, perfetto! Stare, stare, scale... Ovviamente il video non sarà lunghissimo, perché... E, ragazzi, questo è solamente... Ripeto, è una beta, è una prova, questo... Gioca ancora in fase di sviluppo, quindi... Non manchè, animazioni stupende, allora... Nel senso, animazioni per lo stercort. No... La porta si chiosa... Mamma mia... Cazzo, ecco... Vedete, ah... Qualcosa cazzo ci abbiamo... Oddio... 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 mamma mia che brutta sensazione ne ho so oddio i manichini c'è la ragnatela è alimentario stales si ma si ma che cazzo non capisco ci manca un fusibile si ma che cazzo di stales ah eccole qua eh non dobbiamo andare qua a quanto pare oddio raga i manichini sono girati oddio ma che cazzo ma come cazzo sono girati come cazzo è venuto sto qua non è possibile non è non lo so grande vabbè andiamo via ragazzi sto qua non è un bel punto allora conseguiamo mamma mia c'è una casa abbandonata vediamo tanta roba nel momento ci sono dei fantasmi vediamo un po' che tengo lì però oddio oddio chi va là perché ci sono si rumore là non è possibile dai ogni volta che ogni volta che mi giro via si sente il muoio dietro di me una roba pazzesca oddio un uccello raga un uccello messo mamma mia no chiudi chiudi dai chiudi chiudi dai ok ha chiuso l'acqua l'acqua è chiusa adesso cazzo è qua mamma mia no mamma mamma mia i bacoli signori i bacoli di pitti signori di salentil aspetta qui ci sono dei scaffali aspetta un cassetto chiuso c'è una piccola serratura eh la storia è chiusa però io la voglio aprire ecco qua qua non c'è un cazzo non c'è un allora dai 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 bisogna come lo seguiamo da lo seguiamo ragazzi mamma mia mamma mamma mia come quanto cazzo è figlio aspetta andiamo qua e è è stata una catena perfetto quanto cazzo è figo sto gioco veramente proprio un horror che abbiamo messo ragazzi vi sta dicendo tanto l'aspetto anche della grafica è molto allora abbiamo messo in olio perfetto mamma mia come cazzo è cascata scusate ma sono solo a casa sono da solo quindi sai magari ti puoi rispare che non è qualcuno qua fa che sì come io perfetto come cazzo si fa dai oh perfetto mi sembra che è per uscire vaffanculo dai tutto chiuso qua madonna che schifo cazzo è sta roba ragazzi oddio oddio ancora un bim cos'son ste cose raga non capiscono così grande oh torniamo da dunque ragazzi questo Resident Evil 7 ovviamente i Resident Evil sono anche tanti io ci ho già fatto il 2 sono anche la prima parte poi di siano acquistato mi sa che con play playstation plus allora firmato casa abbandonata ok perfetto no ce l'abbiamo questa ancora ecco Resident Evil ci sono anche tanti certi un po' più belli certi un po' meno dico però sempre questi capitoli di Resident Evil secondo me sono sempre fantastici oddio ma che c'è canne marcia con mamma mia mamma mia vediamo se c'è ancora lucello qua ok lucello c'è ancora ok tutto come prima va che cazzo ste robe madonna che schifo mamma mia i vermi scusate ragazzi mi sto prendendo un po' di ansia perché sapete come sono poi a gennaio il mio 6 è uscito anche Resident Evil 0 che è molto simile a Resident Evil 2 quando è uscito in Resident Evil 15 però quei giochi sono un po' diversi da queste quindi eh ma c'è un survivor sparatutto diciamo no non è comunque esattamente oddio 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 che cazzo era questo che cazzo di rumori erano mamma mia ma che rumori erano ok va chiudere la porta eh non zio non è possibile non è possibile vedo cassetta signori adesso non sappiamo cosa vedremo allora come primo giugno nel 1910 26 casa abbandonata ok perfetto partiti oddio maffanculo è stronz è proprio i jumpscare non ci sta bene come se faccio video per i fan signori subito per un secondo faccio un jumpscare non lo so è quanto allora quanto pare è in questo video cassetta siamo io per registro che non so chi quando è l'antagonista e due tizi a quanto pare andiamo a visitare questa casa abbandonata signori eccoci qua faccio io faccio fare lui le cose signori ecco così ha un corpo duro si fa allora signori siamo insati dalla parte del punto senza nella casa dove non dobbiamo uscire che cosa è la storia Andrei? abbandonata farmhouse, la famiglia, la famiglia, la famiglia, la famiglia, la famiglia la famiglia, la famiglia, la famiglia, la famiglia, la famiglia quanto tempo hai detto che la famiglia è stata abbandonata? tre anni ori glantti, mettere una scena di questo, per fare un incontro di un incontro di quindi, uh, il proie Joe e la famiglia avanzia non il proie, sono i ragigli, i ragazzi, i ragazzi, i ragazzi, i ragazzi, i ragazzi e i ragazzi Bacchetta. E loro erano quieti, non fuori. Molte delle scuole sulle loro figli, Lucas. Un sottotitolo, apparentemente. Ah, c***o! Mi sapevo prendere i miei buoni fai... Oh, c***o! Mi pare che avevo le mie scuole! Ma che... questo dovrebbe fare un grande ruolo! Andre, cosa pensi? Andre? Dio, il cielo è sempre da! Andre! Andre! Clancy, vedi dove Andre si è andato? Madonna, che schifo! Andre, sei andato? Perchè cazzo è andato lì? Aspetta! E' cambiato qualcosa Aspetta, vediamo, vediamo i cassetti E' vuoto Sempre uguale, signori Non c'è niente da fare Guardate, dà così C'è stato un nuovo video, Silvia Ahahah Ma tu, a giù, io vado su Stai con me Arriva subito, Dio Fammi lasciare, magari c'è qua No, non c'è I malichini? I malichini non ci sono? Incredibilmente, i malichini non ci sono No, signore Non c'è un cazzo Non ci... non troviamo... Ehm... niente Dico No, l'ho sentito di sì, mamma mia Ah Apri quella porta, vabbè Vediamo cosa succede Andre! Andre! Where the fuck is he? Ehm... io seguivo Andre E dove cazzo va? Ho detto, dove cazzo va? E sono andato via Puh Andre, where are you here? Un muro invisibile, non lo so Ehm... 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 Andiamo andando e non ce ne andiamo Mamma mia Che cazzo sta succedendo? Che cazzo? Oddio No 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 Che cazzo sta rallando? Um che cazzo sta Cazzo sta 이�avillando Di acca che cogno, non ce niente Eh, qui entri io No, 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 vuole prima che vedo io Oddio Ma è andato, signori Che cazzo fate? Oddio 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 Porca puttana, che cazzo è successo? Oddio, che cazzo è questo? Oddio, ci ha uccisi Cosa cazzo è successo? Ti sfacerò contro la pietra Mamma mia, signori Eh, dobbiamo fare Il passo Uguale ragazzi Quanto pare Oh no Ok, ci abbiamo una chiave Perfetto Oddio Che cazzo era questa Che cazzo era questa Daga Mamma mia Ma che cazzo è Che cazzo era questo? Oddio 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 E' tutto come prima, è tutto come prima O meno Oh no No Tutti bastardi, i manichini Mamma mia Non si può chiudere, ok Dai Dai Benvenuto in famiglia Atento zia Atento Oddio Oddio che cazzo è questa roba Mamma mia E finisce così Finisce così questa ripresa La famiglia ti attende inizio del 2017 La famiglia, la famiglia signori Perché questa è una famiglia Perché ci sarebbe tanto tanto divertirsi in questo Restitutivo del 2017 signori Oggi ci sono guardato un trailer diciamo avanzato O forse il trailer anche vero Non lo so Lascio comunque in descrizione signori Dei aggiornamenti del gioco I progressi ci stanno pian piano arrivando Ovviamente Il gioco Il gioco Il gioco lo vedremo Lo vedremo Nel 2017 a gennaio Fino a quel momento I capitoli horror saranno Ovviamente Outlast che aspettiamo Che dovrebbe arrivare in autunno Outlast part 2 Ovviamente sul canale Porterò anche Wizard of Siccome l'ho portato Faccio tempo Dai Faccio tempo Quindi Questo Silent Hill Ma che cazzo dico Che cazzo dico Resident Evil 7 Ci sono veramente tantissimi capitoli di Resident Evil E questo mi ha fatto una impressione ragazzi Ditemi voi Cosa ne pensate di questo gioco Per me Secondo me Questa beta È già un capolavoro È un gioco che merita E niente Aspettiamo Ovviamente Il gioco completo E dopo ovviamente Il gioco arriverà sul canale Perché Ripeto La stessa cosa non andiamo E fa Impazia ragazzi Niente signori Sono già mezzanotte e mezzo Niente Date un commento mi piace Iscrivetevi E buona notte a tutti Buona serata a tutti Ecco